Un altro aspetto della diagnosi precoce riguarda invece quelli che possono essere i disturbi psicopatologici precoci, spesso misconosciuti. Noi possiamo avere dei bambini che già all'età di tre anni possono avere disturbi importanti del comportamento o disturbi di tipo depressivo che spesso simulano l'autismo, per cui la diagnosi differenziale diventa estremamente importante. Diciamo che la nostra intenzione è quello di sviluppare molto il progetto diagnosi precoce 2003, anche perché è un'esperienza molto importante per la popolazione, per noi operatori ed è anche nuova, abbastanza innovativa rispetto alla Regione Veneto, dove sicuramente tanti progetti per le diagnosi precoce sono fatti e sono anche molto importanti, ma forse non in questa direzione, in modo così dedicato e così specifico. Per tornare a Dottor Briganti e per concludere almeno per il momento il tema dell'autismo, dicevamo prima che il problema è che ogni bambino con questo problema è un caso a sé. E dunque quali gli approcci di intervento che voi realizzate, che devono per forza essere in qualche modo diversi e diversificati? Sicuramente il disturbo autistico è una condizione molto complessa e molto varia tra vari bambini, tra bambino e bambino. Una diagnosi funzionale, così come noi medici la definiamo, cioè che va a studiare le funzioni del bambino, da quella del linguaggio, della comunicazione, dell'interazione, tutte funzioni che in una certa misura sono compromesse nell'ambito dell'autismo. La diagnosi funzionale, ripeto, ci permette di impostare un progetto riabilitativo individualizzato, personalizzato, personalizzato. Noi crediamo molto in questo tipo di approccio, che si rifà a varie tecniche e non solamente ad una in modo specifico, anche perché non esiste oggi una tecnica di cura migliore, diciamo pure, di un'altra. Esiste la cura adatta per ogni bambino, la cura adatta per ogni situazione. Naturalmente sono interventi che devono essere eseguiti, effettuati in maniera intensiva, che non vuol dire ripetitiva o fare sempre le stesse cose, le stesse attività, vuol dire variare molto l'intervento ma mantenerlo costante anche nell'arco della giornata, con situazioni diverse, operatori diversi. Voglio dire che i genitori vanno coinvolti dando a loro un compito preciso rispetto a un certo obiettivo, però va coinvolta anche la scuola che deve avere degli obiettivi riabilitativi ed educativi rispetto al bambino e vanno coinvolte ovviamente le strutture sanitarie che svolgono un certo tipo di riabilitazione.